Ascoltate, uomini! Preparate le lame e lo spirito! Andiamo a razziare, oh sì! Sei molto lontano da casa, non reno? Forse, ma i miei sessanta inverni non placano la mia sete di razzia e ho il migliore equipaggio dei mari! Qui non c'è nessuno! Come puoi non vederli? Tutti uomini robusti! E tu? Prenditi utile e aiuta a preparare la nave, amica mia! Guardati intorno! I preparativi non hanno mai fine! Inizia dove preferisci! Guardati intorno! I preparativi non hanno mai fine! Inizia dove preferisci! Sì! I metalli! Caricali, li useremo per riparare le armi! Ma non hai nessun fabbro! Ah, idiozie! Jorn il nero è qui intorno! Il fabbro è lui! Le tavole! Affronteremo terribili tempeste! Alla nave serviranno riparazioni! A l'abbiamo inizio inercizato! Cosa è spingale! Fulmini di Thor ci serve paglia incendieremo le fortezze del nemico siamo pronti a solcare le onde del mare chiama scherde knut e il resto della giurma suona il corno oh per gli dèi puoi suonare quel maledetto corno oh per gli dèi puoi suonare quel maledetto corno scatenate una rossa tempesta dei lupi nemici la battaglia uomini la casa lavora la pade miserabili sassoni questi sassoni assenna in avventi è stata una battaglia leggendaria sei fortunato a essere vivo i uomini sono stati eroici li abbiamo sterminati tutti come ai bei vecchi tempi vecchio eravamo io e te noi due soli e i tuoi sassoni erano lupi famelici no Bjorn, Skard e gli altri erano qui al mio fianco come nelle razzie dei tempi andati ora non più hai guidato le loro ombre su una nave fantasma hai finito di razziare la tua ciurma è nel Valhalla tu... tu lo... lo credi davvero? se è così è stato bello l'ultima razzia ti ringrazio amica 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 ti ringrazio amica